ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Angle e oggi vedremo il pranker più epico di tutti faremo una parodia di questo video scherzo alla mia ragazza che pranker è epico lui ovviamente questo video per ironia non voglio offendere nessuno e iniziamo vediamo il video hai già detto ok va bene hai già detto di nuovo secondo me a lei farà piacere molto direi ne sono sicura guarda ok vediamo la videochiamata tu non mi hai fatto manco vedere per un secondo per un nanosecondo hai fatto vedere lo schermo poi ti sei subito girato dai calmo 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 se mi faccio vedere ancora un minuto un secondo di schermo no no non si può non sento niente però strano guarda ho capito di sicuro non ha sentito eccolo ma non l'ha sentito l'hai gridato che l'ho sentito l'ha sentito pure il dio dell'olimpo che sta sopra il monte olimpo che in alto l'ha sentito oppure lui di sicuro lei non l'ha sentito guarda mi sono sicura al cento per cento scrivetemi nei commenti se l'avete sentito lui che ha detto eccolo e poi hai detto eccole lei credo sia una femmina presumo allora inizio questa conversazione lei pensa che sia una buona notizia dice se devo dire una cosa molto alla saluta antonio e poi mi verrà in mente un flashback con saluta antonio in questo video lei intanto lì sembra che si mangia le unghie non gliene frega niente lei dispiace proprio tantissimo guarda ha chiuso ha chiuso lui poi con sta faccia mamma mia ha dispiaciuto al cento per cento di aver fatto uno scherzo alla sua ragazza mamma mia non ho mai visto una faccia così dispiaciuta dai richiamala vai 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 richiamala poi tra l'altro il titolo alle linguette mi sono dimenticato di dirvelo quindi questo titolo si chiama scherzo alla mia ragazza scusate sono un po' pazzo ho capito che la richiami ah l'hai già detto perché muove la fotocamera e poi perché hai detto aiuto cosa hai paura aiuto la mia ragazza mi vuole uccidere perché l'ho lasciata eh ex ragazza era uno scherzo guarda è su YouTube è su YouTube ti odio proprio ti odio mamma mia anch'io ti odio mamma mia dai non te la prendere eh non te la prendere secondo me lei non se l'è presa se l'è presa perché tu sei ritorno hai detto che era uno scherzo lei voleva che era finto invece cavoli non era uno scherzo ma mia no era uno scherzo saluta la sentite non vi ricordo in mente qualcosa non vi viene in mente niente ma proprio nulla saluta non vi ricorda qualcosa vabbè che bella la tua macchina spero che questo video vi sia piaciuto nel caso mettete un bel like lo mettete comunque tanto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando ma voi che guardate i miei video non siete iscritti oh oh dovete iscrivervi eh mi raccomando iscrivetevi ciao e al prossimo video ciao